Prima del fischio d'inizio di Chieti-Montegiorgio, la premiazione da parte del Comitato per il Centenario per Silvio Lafuenti che ha difeso la Porta Nero-Verde per due stagioni in C1. Verna parte dalla panchina, si riprende una maglia da titolare Ventola in attacco e Luasni qui subito pericoloso in coppia con Orlando, mentre Fabio Brini propone il tridente composto da Rucci per Pepai e Marchionni. Parte decisamente meglio il Montegiorgio, subito aggressivo e propositivo anche se qui Orlando prova la giocata dalla distanza. Il più ispirato della squadra rosso-blu è Alessio Rucci, sistemato sulla destra nell'attacco del Montegiorgio che qui butta giù la traversa, pallone che rimbalza sulla linea, si salva il Chieti a centimetri dal vantaggio. La sua squadra Chieti che soffre, Montegiorgio che spinge qui Marchionni, impegna Matteo Forte, altra opportunità per i ragazzi di Brini. E Chieti che rischia di rimanere in dieci uomini perché Tricarico tira fuori il rosso per questo intervento d'opera di Mele su Marchionni, poi però ci pensa su e rettifica la decisione, l'espulsione sarebbe stata eccessiva per Mele, cambia quindi il colore del cartellino, solo giallo. Chieti che torna ad attaccare, qui tutto fermo, posizione di fuorigioco di Elwasni, ma resta più di un dubbio. In un primo tempo comunque in cui il Chieti fatica a costruire Montegiorgio ordinato in difesa ad incisivo, soprattutto sulle corsie. Elwasni qui il tentativo in chiusura di prima frazione 0-0 all'intervallo. Un risultato che dopo l'ingresso in campo di Francesco D'Innocenzo, in luogo di Mattia Di Mino, cambia con il gol realizzato da Dennis Perpepai, 1-0 del Montegiorgio, la sblocca. L'attaccante cresciuto nelle giovanili dell'Ascoli, il giusto premio per quanto prodotto nel primo tempo. A questo punto il Chieti accenna una reazione pur continuando a commettere troppi errori in fase di costruzione. Protesta, Orlando all'interno dell'area chiede il calcio di rigore. L'attaccante del Chieti c'è spazio successivamente per la conclusione dei Mariani in doppia cifra con il Montegiorgio tre stagioni fa. Chieti ad un passo dallo 0-2 con Di Renzo che salva su De Meio in proiezione offensiva. Il Chieti interrompe la striscia di risultati utili per Brini. Invece sette punti in tre partite dal suo approdo sulla panchina del Montegiorgio che l'Angelini vince 1-0. Abbiamo fatto una partita sotto tono, il primo tempo veramente sotto tono, senza nessun tipo di scusante e mi dispiace. Mi dispiace perché più che altro si voleva raggiungere l'obiettivo della salvezza subito e invece quando le cose le vuoi troppo subito evidentemente non aiutano. Siamo stati non neanche frenetici, abbiamo un po' non aggredito la partita e poi nel secondo tempo preso il gol non abbiamo avuto la lucidità fino alla fine di poter pareggiare. Dispiace, noi dobbiamo rimanere comunque tranquilli con i piedi per terra, sapere che il nostro percorso è quello che stiamo facendo. Cercheremo di fare punti, arrivare a 46-47 perché secondo me la quota salvezza si è alzata oggi con i risultati, mi sembra che sono definitivi. E quindi bisogna per quello che si può stare tranquilli. Mi dispiace per chi aveva fatto un pensiero a qualcosa ma con i pensieri è meglio lasciarli stare, fidatevi. Quindi noi l'abbiamo approcciata male, atteggiamento sbagliato e poi ce lo siamo trascinati un pochettino. Ci siamo un po' ripresi nel momento del secondo tempo però è troppo facile giocare solo 20 minuti a partita, bisogna giocare dall'inizio. Noi non l'abbiamo fatto e abbiamo perso secondo me meritatamente quindi bisogna accettare la sconfitta. Adesso ci mettiamo sotto, lavoriamo, i ragazzi stanno giù però dobbiamo subito ritirarci su e cercare di fare i punti e raggiungere il nostro primo obiettivo. Quanto è importante questa sosta soprattutto per il recupero dei giocatori infortunati? Sicuramente molto perché noi abbiamo comunque adesso una rosa un pochettino più diciamo corta per via degli infortuni. Quindi adesso forse recupereremo Luca per giovedì 24 e l'8 maggio perché poi ci sarà l'8 maggio. Spero di recuperare tutti, sperando che nessun altro oggi ha accusato qualche problema. I Chieti per me è una grande squadra. Aveva delle assenze oggi importanti e noi abbiamo cercato di sfruttare il più possibile quello che potevamo fare. Il primo tempo l'hanno fatto bene e forse meritavamo anche il go nel primo tempo. Però poi questo è venuto nel secondo tempo e lì siamo stati bravi anche a difenderci. Poco tempo noi abbiamo fatto quattro partite in dieci giorni. Forse non capita neanche nei professionisti quelli veri. Allora devi lavorare sulle motivazioni dei calciatori dando delle indicazioni e non dando indicazioni che possono creare confusione. Il calcio è semplice e poi noi altri lo vogliamo far diventare difficile perché facciamo i bravi per risolvere poi i problemi che noi stessi creiamo. E allora ripeto le giocate semplici sono le cose migliori in una squadra di calcio.